Ciao a tutti, lei Demi e lei Anni e benvenuti in questo brevissimo video Breve questo video perché oggi volevamo farvi insieme gli auguri di buon anno Sperando che questo 2021 sia migliore del 2020 Anche se questo è stato un anno difficile, speriamo che i nostri video vi siano piaciuti Noi ci siamo divertiti un sacco a farli La cosa più brutta durante quest'anno è stato vedere poco i nostri amici Per fortuna a settembre è ricominciata la scuola, non potevamo ancora abbracciare i nostri amici però li abbiamo rivisti Quest'anno purtroppo non siamo riusciti a passare il capodanno con dei nostri carissimi amici Però lo passeremo comunque con la nostra famiglia che è una bellissima cosa Fra poco sarà mezzanotte e andremo a vedere i fuochi, io sono super in ansia e tu Demi un sacco Mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale cliccando questo appena campanellino Per attivare le notifiche e alla fine se vi è piaciuto il video mettete un bel like Ed ora andiamo a vedere i fuochi Adesso accendiamo le candelette magiche No aspetta Le candelette magiche Poi accenderemo questi Anche là ci sono Delle altre Questi sono i più piccoli credo Sì Questi invece sono i più grandi Dieci Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Buon anno No 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 ah Grazie a tutti Abbiamo anche questi qui Che sono davvero giganti Ovviamente Oh ma guarda ne hai Ok Ok